Dunque mister, domani si va ad affrontare il Potenza, una squadra indubbiamente con determinate caratteristiche che può rivelarsi ostica come già ha dimostrato. Quali sono le prime sensazioni in merito? Che sarà giustamente come ha detto te un pomeriggio complicato perché Potenza è la rivelazione di questo campionato. Giocano bene, giocano insieme da due anni, hanno schemi e giocate collaudati e quindi se lo sommiamo all'entusiasmo che si respira in questo momento sicuramente Potenza è una squadra di quella da prendere con le molle e che come ho detto prima ci farà passare un pomeriggio complicato. In conferenza ha parlato di binomio tra squadre e tifosi, visto l'attuale situazione quali sono i primi pensieri o il modo di affrontare questa situazione? Come ho detto, tutto ciò che abbiamo intorno non può e non deve in qualche maniera precludere che ci sia una cooperazione tra squadre e tifosi perché comunque noi sul campo possiamo riuscire a fare qualcosa di importante per il Catania senza alludire nessuno, senza dire che sarà una passeggiata di salute perché non lo è anzi sarebbe una vera impresa però non posso pensare che non ci sia questo binomio che va nella stessa direzione per riuscire ad affrontare tutte le difficoltà del momento. Grazie 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 Grazie